Buon ascolto, buone strade e vi lascio a tutti. E vi lascio a tutti. E vi lascio a tutti. Grazie. Grazie. Allora, il primo brano in programma è Isidoro Rossi, il titolo è Quarta Anche, no? E' un brano abbastanza antico, se vogliamo. E' originale da un brano ben etico, che è sottiliso in tre parti. Non è molto lontano. E iniziamo con un brano, cioè la sequenza. E iniziiamo con un brano, ma lo soggigliato è un brano, dove si potremmo. E iniziamo con un mio padre, perché ci sono in grano, E Wir poco ci è angliato. E iniziamo con un minuto. Grazie a tutti. 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 a tutti.